la limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al bestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari e dà diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, redovanza, vecchiaia o in un altro caso di perdita di mezzi disoccupati.